Musica Nel settimo mese dell'anno 1999 verrà dal cielo un grande re del terrore. Venti anni del regno della luna passati, il regno di un altro comincerà all'inizio del terzo millennio, quando il sole avrà i suoi giorni oscuri. Allora la mia vorbezia sarà realizzata e superata. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti